Sì, è vero, a Castiglione non abbiamo potuto incontrare internate, ma perché lo spazio che avete visto dove si è sviluppato questo dibattito, che è stato fondamentale, perché l'ultima tappa è stata quella più significativa, perché finalmente ci siamo confrontati con queste persone, con gli internati, però era lo spazio del bar, quindi l'entrata, l'arrivo degli internati era assolutamente libero, il direttore era lì con noi, ha discusso, quindi si è messo a disposizione, però non era stato organizzato nulla e quello è il bar degli uomini. Certo, perché sono edifici separati, ovviamente, non saprei come dire quale avverbio metterci, sono in corpi separati. Mi piacerebbe parlare di tante cose, del processo creativo e narrativo che c'è dietro questo film, ma soprattutto di ciò che lo ispira, di cosa succederà, nel frattempo già sono diminuiti per fortuna gli internati nel nostro paese, però di come questo problema travalica, gli OPG e in fondo riguarda tanto anche i nostri dipartimenti di psichiatria dei nostri ospedali, i diagnosi e cura, dove spesso avvengono cose per l'appunto terribili, anche delle morti misteriose, oltre che delle violenze, delle sovraffazioni. Di come rispetto alla malattia mentale, nonostante noi siamo un paese che vanta, grazie a quella follia gioiosa che fu la proposta di legge di Basaglia e del suo gruppo, tutto ciò nasce da lì, Marco Cavallo, quel movimento, quella provocazione culturale, nonostante siamo un punto il paese con una legislazione tra le più avanzate, nei primi siamo stati, ecco in questo momento ci troviamo a doverci confrontare invece con dei ritardi imperdonabili, con una situazione che è inquietante, adesso faccio parlare voi. Cominciamo a raccontare, Erika ti domando di raccontare come nasce il progetto, quando è che è venuto voglia appunto di farne un film, quindi diciamo la storia, la piccola storia di quella cosa che abbiamo appena visto. Va bene, come avete capito, il progetto del viaggio è un progetto che nasce ben a monte del momento in cui il viaggio si realizza, nasce nel 2011 quando si crea il comitato Stop OPG che racchiude una miriade di associazioni, realtà, enti e istituzioni che vogliono portare avanti una campagna perché gli OPG vengano chiusi. Quindi il comitato e la CGL decidono alla fine che utilizzare la forza del simbolo di Marco Cavallo può essere un modo efficace per entrare negli OPG e far parlare ancora di questa situazione di cui si sa sempre troppo poco e visto che dopo quello che era successo, come si vede all'inizio del film con la commissione Marino, c'era stata l'ennesima proroga per la chiusura, il comitato organizza il viaggio. La decisione del film la si deve al produttore Aldo Mazza, alle edizioni della collana 180 che capisce quanto è importante quello che sta per avvenire perché di fatto ci troviamo, cioè noi abbiamo vissuto un momento storico, io lo dico perché lo considero una grande verità così come negli anni settanta, purtroppo non c'ero, però Basaglia portava avanti una rivoluzione, però c'eravate voi, così novembre scorso si è fatta questa operazione che risulta storica per il risultato che poi si è ottenuto perché comunque una proroga innesima era stata fatta e non era affatto detto che si ottenesse insomma un risultato concreto che al di là della nuova legge che impone la chiusura è proprio una revisione delle condizioni in cui queste persone vivono all'interno di queste istituzioni. Ho visto che non avete adoperato quelle che in genere sono le immagini che, i famosi pugni nello stomaco, per esempio delle immagini della commissione marino che forse qualcuno ha visto, avete tenuto un registro anche di gioia, di festa. L'abbiamo deciso io e Giuseppe a Monte, quindi nel momento in cui abbiamo capito che avremmo documentato questa operazione abbiamo scelto di seguire l'energia del cavallo per quello che era stato e per quello che abbiamo poi vissuto, perché di fatto il film documenta quello che noi abbiamo vissuto man mano. Il vostro viaggio. Esatto, però abbiamo deciso che non avremmo utilizzato niente che rimandasse a quelle immagini che quando sono uscite da questi luoghi appunto sono state, come hai detto tu, pulmi nello stomaco perché volevamo raccontare una speranza, insomma, la prospettiva. Cioè la scelta appunto è quella di dire c'è un gesto di libertà che è in corso nel nostro paese e noi lo cantiamo, lo celebriamo. Le immagini della commissione marino per chi non le avesse mai viste è un'esperienza orribile guardarle, sono proprio riprese fatte dentro le strutture degli OPG e dove si vede degrado medioevo, barbarie, abbruttimento, una cosa girate nel 2010. Devo dire, quelle immagini comunque sono servite perché hanno scosso la coscienza di dire possibile che questa cosa avvenga in Italia e non in un paese del terzo mondo e quindi si è messo in moto un processo che speriamo poi porti a compimento e che per colui che viene ritenuto appunto soggetto con disturbi mentali e che ha compiuto un reato e che abbia che si siano riconosciuti i diritti di un qualsiasi delinquente insomma e non spedito senza zinedie in una reclusione occultato agli occhi della società privato dei propri effetti personali senza un avvocato, senza così imbalia della misericordia di uno psichiatra e soprattutto senza avere nessun percorso terapeutico, senza solo sedato, ecco questo è il modo con cui abbiamo a volte, buttiamo sotto un tappeto la polvere, ciò che ci disturba, ciò che ci spaventa, ciò che ci dà fastidio, forse perché quella roba lì siamo un po' anche noi e abbiamo paura anche di noi stessi. Giuseppe Giori, principalmente come ti ho visto sempre col microfono, col boom, sei ufficialmente il fonico del film, però insomma il gruppo di lavoro è tale per cui alla fine già avete condiviso, quindi ti chiedo anche di raccontarci, magari per un momento mettiamo da parte l'aspetto tematico, ma parliamo proprio del cinema, come vi siete divisi i lavori, come avete progettato questo film, l'avete girato e poi vediamo che succede, oppure avete già, alcune immagini sorgono proprio da un progetto divisivo che avevate in mente, mi ha molto interessato l'uso della musica peraltro perché c'è un gruppo molto bello che ti ho chiesto di Chicago, mi hai detto, quindi raccontaci un po' l'aspetto diciamo della fabbrica, del laboratorio, della bottega di questo film. Come ha detto Erika, nel senso il produttore Aldo Mazza raccoglie il gruppo e il team per seguire il viaggio. Inizialmente Erika e Daniel Mazza, il direttore della fotografia ed io, che ho seguito il suono durante le riprese, insieme abbiamo cercato di concordare una linea che potesse essere quella dell'osservazione e non dell'aspetto a polarizzazione, quindi non addentrarsi nell'etichetta e dell'immagine e appunto dello stigma che Peppe dell'acqua nel film dice. Quindi ogni sera, prima di ogni partenza, un po' ci si metteva in una piccola discussione su come avremmo potuto affrontare la giornata. Il team documentario è piccolo, siamo tre persone e ognuno in qualche modo vocalizza la sua attenzione creativa al momento della ripresa, nel senso che sei occhi e sei orecchie sono molto più forti di una sola persona, soprattutto nel momento. Poi nelle decisioni ci si confrontava immediatamente e si seguiva una linea che si era preposta all'inizio o alla sera precedente. Quindi l'idea di condividere e di lasciare anche spazio alla fotografia, spazio all'osservazione, spazio al contatto visivo che un po', insomma, eravamo un po' separati in ogni tanto ma poi subito ci si rimetteva insieme. Ho visto questo piuttosto che altro e poi insieme cercavamo di canalizzare. Come avete gestito questo attore ingombrante anche, ma vitalissimo, esuberante che è stato Peppe? Beh, come si può immaginare, non si può gestire Peppe dell'acqua perché voleva che anche noi tenessimo le bandiere. Ci siamo resi conto più che altro fin da subito che oltre alla forza dell'immagine del cavallo e dell'immagine forte degli istituti dove stavamo entrando, avevamo con noi dei contenuti molto forti, contenuti che sono sempre difficili da affrontare. Quindi ci siamo posti fin dall'inizio alla complessità del tema e grazie alla disponibilità di Peppe abbiamo deciso di affrontare il tema durante il viaggio e da qui fin da subito la scelta di registrare le conversazioni tra Peppe e Aldo che sono la spina dorsale del film perché grazie alla storia di Peppe e alla storia di Trieste si arriva poi qui a fare questa esperienza. Secondo me questa insomma è stata una scelta coraggiosa perché sono temi complessi, è difficile far capire cosa sta dietro un'operazione del genere e soprattutto si sa poco in Italia della storia della psichiatria, cioè non parliamo di legge Basaglia, parliamo di legge 180 ma quello che veramente è successo a Trieste negli anni settanta e che cosa è successo dopo soprattutto lo sono in pochi e quindi io non smetterò mai credo se ne avrò l'opportunità di raccontare questa storia perché oltre ad essere bella e magica è importante, è importante che sappiamo che cosa sta dietro ai diritti che abbiamo e che non abbiamo. Continuando appunto a parlare sempre dell'officina ma anche diciamo dell'aspetto logistico, organizzativo e produttivo di questo film, abbiamo intrasentito e capito che la grande battaglia è stata riuscire a entrare dentro questi istituti e che c'erano queste telefonate di Peppe dalla macchina per avere dei permessi, sembrerebbe che la maggior parte dei direttori si siano eclissati al momento del vostro arrivo, temendovi. Ci potete raccontare appunto, se lo volete raccontare voi ce lo vuole raccontare Peppe, non lo so, Peppe voglia di raccontarlo tu? Come dire, c'ho sempre voglia di raccontare ma tutta la logistica, cioè proprio viaggiare che abbiamo scoperto essere una cosa non facile, bella ma non facile, con un cavallo che aveva bisogno di accudimenti particolari, è stata possibile proprio per questa coralità che si è potuta mettere in campo naturalmente con delle persone che hanno dovuto spendere tutto il tempo di un giorno per telefonare, vedere e su questo devo dire che a partire qui da Torino, quindi approfitto per ringraziare gli amici della CCL di Torino che sono stati primi ad accoglierci, a portarci nella Università e in Audi, dovunque c'è stata questa rete che ci ha accolto. Per quanto riguardava invece gli ingressi è stato non facile perché fino all'ultimo momento eravamo in contatto, io Stefano Cecconi, gli altri componenti del comitato per vedere se e quando e come davvero ci veniva fuori questi permessi e alla fine tre giorni dopo sono arrivati. Il problema era la stranezza della cosa, insomma cosa vanno a fare questi, insomma, no, poi alla fine le cose sono arrivate. Il fatto che alcuni direttori non ci fossero, io come ho detto nel film penso che non potevano esserci, non lo so, avranno avuto degli impegni, però è anche vero che per esempio ad Aversa non c'era e la gestione, e questo però sono significative queste cose, la gestione la faceva il capoguardia che ovviamente applicava il regolamento per filo e per segno, noi siamo stati due ore in quello spazio angusto tra una porta blindata e un'altra porta blindata col cavallo al centro, una scena straordinaria che avrebbe come dire ingolossito qualsiasi cineasta, ma insomma era quello. Come pure a Secondigliano, come avete visto per una serie di disguidi, eravamo noi soli, non c'era nessuno e anche il direttore non c'era, non sappiamo perché. Come hai detto Castiglione, beh a Castiglione sicuramente il direttore che non aveva chissà quale desiderio di incontrarci, avendo delle posizioni sicuramente non proprie e concordanti con le nostre, insomma ci ha accolto, è stato gentile per carità. Ma ho una domanda, siccome Castiglione si viene non dipende dall'organismo, dal ministero di ragazze giustizia ma dal ministero della sanità credo, o dalla regione. Sì, la vedo preparata. Il direttore, ho studiato, il direttore non è un polizia penitenziario, ma è un sanitario. È un sanitario, è uno psichiatra di conseguenza. Un psichiatra, sì. Anche negli altri ospedali psichiatrici, dopo la legge del 2008, si sono scisse le direzioni tra quella penitenziaria, quindi con un direttore che viene dal ministero di giustizia e un direttore sanitario che appunto ha quelle caratteristiche. Perché secondo te uno psichiatra, io capisco un'amministrazione giudiziaria che ha paura di perdere posti di lavoro, magari in un periodo di recessione di crisi abbiamo impiegato, tot, agenti di pulizia penitenziaria che perderebbero il lavoro chiudendo gli OPG. Ma perché uno psichiatra protegge l'idea dell'OPG e non quello di un centro di cura e di terapia? Allora, è una bellissima domanda, alla quale anch'io ho studiato, saprei anche rispondere. Però pretende dei ragionamenti un po' più ampi. Per essere brevi posso essere sloganistico. La psichiatria nasce, si fonda, su questo concetto di malattia che è il cervello e sulle conseguenze. Prima tra tutte la pericolosità, l'inguaribilità e l'incomprensibilità. Ai primi dell'Ottocento è questo quello che succede. Si dice che, forse non tutti sanno, ma negli ospizi a Parigi il fondatore della psichiatria, che è Schirol, Filippo Pinel, libera i matti dalle catene in questi luoghi. Sicuramente si vedono queste immagini della pittura neoclassica di Pinel con i suoi assistenti che rompe le catene a queste persone che stanno lì in mezzo a stupratori, delinquenti, preti spretati, prostitute impecchiate. Insomma, c'è tutto ciò che contadini inurbati e perduti nella vastità della città. Fa quest'operazione dicendo che tra tutti questi, questi sono malati di mente. E si dice che da qui nasce la psichiatria, con un atto di liberazione. Cioè un medico libera i pazzi dalle catene. Qualche anno dopo, un secolo dopo, un altro francese, che è Michel Foucault, dice che quando mai Pinel non ha liberato proprio nulla, perché nel momento in cui toglie le catene, l'individuo riconosce la malattia mentale. Nel riconoscere la malattia mentale, immediatamente richiude dentro mura ben più alte, più potenti delle catene, questi cittadini, i folli, che non saranno più folli, ma malati di mente, e li chiude dentro il muro di un manicomio. Sulla base di una scienza che allora nasce, che non ha nessun fondamento per poter dire quello che si è detto. Allora, perché gli psichiatri sono legati a questo? Per essere gentili direi, ma perché non lo domandi agli psichiatri? E vediamo cosa ci rispondono. Però si può sicuramente dire... Però ti consideri uno psichiatra? Certamente. Approfitto di una definizione che ha dato un giovane psichiatra, che stimo moltissimo, che dice io sono uno psichiatra riluttante, no? Quindi potrebbe... Allora venendo proprio a una risposta semplicissima. Bene, gli psichiatri sono formati, sono dentro questo tipo di cultura. Quando tu citi... Fai un quadro anche forse troppo drammatico, ma quando citi i farmaci, le contenzioni, eccetera, eccetera, Noi stiamo parlando di una scienza nella quale gli psichiatri ancora credono e nella quale si formano, che ovviamente non può, nella sua prepotenza, nella sua certezza di definire l'altro, di metterlo da un'altra parte, non può che produrre queste violenze, questi disastri, questi annientamenti. Allora, gli psichiatri purtroppo fanno fatica a lasciare queste culture. Sono sicuramente, si dice, la scienza servile alla giustizia. Nasce come strumento per il controllo sociale. Nasce. Ma non ha mai abbandonato questo compito. Sono soggetti ai giudici, no? Poi i giudici sono soggetti agli psichiatri. Se tu andassi in un tribunale a vedere cosa succede sulle perizie, c'è un perito che dice, allora così, così, così. Poi tu chiedi al giudice, ma allora, si può fare qualcosa, visto che questo stacco... Eh no, ma il perito mi ha detto in quest'altra maniera. E allora tu vai dal perito e dici, ma il giudice forse sarebbe disponibile... Eh no, però il giudice, cioè, è un balletto assolutamente sgradevole che porta poi le persone nei mani come giudiziari, porta anche a quei trattamenti che tu hai citato, no? I trattamenti sanitario obbligatorio, che sono una cosa straordinaria. Il trattamento sanitario obbligatorio è la noce, come dire, proprio la spina dorsale della legge di riforma. Non ci fosse quella legge, non staremmo a parlarne. Ma perché? Perché quella legge dice semplicissimamente che le persone devono essere curate perché sono bisognose di cura. Lo Stato se ne deve occupare perché hanno bisogno di cura. Non perché sono pericolose, devono essere contenute e devono essere violentate. È da lì che nasce poi questo conflitto, questa contraddizione, questo orrore sul quale noi dobbiamo continuare a lavorare. Cioè io immagino che il cavallo andrà a visitare le decine, 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 decine di servizi di diagnosi e cura dove in questo momento le persone sono legate, dove ci sono le porte giuste. Era esattamente quello che stavo per domandarvi a tutti. Ora voi avete percorso questo viaggio come tappa e avevate i Castiglione-Vestiviere, Montelupo-Fiorentino, Aversa, Barcellona, Pozzo di Gotte, eccetera, eccetera. Cioè quello che resta di questi obbrobri, gli OPG. Ma ogni città, ogni ospedale ha un reparto di psichiatria, ha un DSM, è attivo. Ecco, sarebbe interessante forse un viaggio di Marco Cavallo a vedere cosa succede, a raccontare nei DSM dei reparti di... Potremmo farli insieme, Paolo. Ecco. Perché entriamo forse in un altro mondo dove c'è molto da dire su cosa succede a chi viene ritenuto, diciamo, sofferente di un disturbo mentale. Ma vedi, quello che è chiaro, e chiudo, quello che è chiarissimo andando nei manicomio giudiziari, è che tante più persone stanno in manicomio giudiziario quanto più fragili, più incapaci e più stupidi e violenti sono i servizi di salute mentale. Quando io a Genova dicevo, ma vi domandate cose come... La media è oggi che ce ne stanno 18 internati ogni milione di abitanti. Ce ne sono regioni che ne hanno 36 e ci sono regioni, come mi vanto di essere in Friuli Venezia Giulia, e di altre, come la Toscana, per esempio, che ne hanno 6, che ne hanno 7 per milione. Allora la domanda è, ma com'è possibile che siamo tutti cittadini italiani, la Costituzione vale per tutti, le leggi sono uguali, i disturbi mentali non sono diversi dal Piemonte alla Sicilia, com'è possibile che ritroviamo questa diversità così significativa? Allora arrivi a dire quello che stiamo dicendo, cosa si fa, cosa fanno le regioni, quali sono le risorse messe in campo, e tutte le regioni oggi nessuna può alzare la mano e dire io sto facendo proprio bene. E questo è il tema... Se il Friuli è l'unico che può vantarsi un po' no? Sì, 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 certo, con molta fatica. Ma la San Giovanni... Ma certo, certo, ma posso dire anche la Toscana, posso dire anche altre situazioni punti forno. La Toscana, insomma. Io se un mio amico va a psichiatria a Pisa, mi preoccuperei. La psichiatria non è il Servizio Sanitario Nazionale, è il forno dove si fa quel pane lì. Si fanno quegli psichiatri lì. Come mi sono preoccupato quando è capitato. Dove in fondo non ci sono le celle, ma ci sono le celle chimiche. Ci sono, insomma, i farmaci che imprigionano in un altro modo e mettono in condizione di non nuocere l'individuo scomodo, ritenuto pericoloso. Raccontatemi della post-produzione. Cioè, a un certo punto vi siete trovate queste migliaia di ore. Qualche erano, non lo so, di girato. E le abbiamo riviste tutte insieme a Beppe Leonetti che ha montato il film. Che è il paziente essere umano là davanti. Che è qui davanti. E quindi tutti insieme, allegramente, abbiamo deciso cosa tenere e cosa no. Non avete fatto una scrematura durante le riprese, una selezione del materiale? Non c'è... Durante le riprese abbiamo cercato di vedere il più possibile il materiale, ma il viaggio era veramente a tempo pieno. Quindi era girare e viaggiare, girare e viaggiare in continuazione per 14 giorni. Quindi no, durante... Ho capito. Quindi siete arrivati stremati alla fine e avete portato tutto in avid. o in final draw, in final cut, non so. In final cut, sì. E abbiamo lasciato Leonetti. Non proprio, però insomma... Allo sguardo vergine di Leonetti. No, abbiamo rivisto tutto e devo dire che c'è risultato, insomma, abbastanza chiaro fin da subito, insomma, che le tappe dentro gli OPG erano i momenti che, anche perché li avevamo vissuti, insomma, più potenti, insomma, comunque più importanti, ma che abbiamo scelto di raccontare il viaggio cronologicamente. Quello è stato... Certo, è un film di viaggio, quindi ha una sua drammaturgia già, come si dice, preordinata. Esatto. Beppe ha benedetto l'idea di tenere... Ha rottuto le scatole sul montaggio, ha detto, levatemi qua, c'ho la barba. Io no, ma l'altro Beppe. Io un po', un po'. Qua si vede che sto stanco, l'ho dormito male. No, io posso chiedere una cosa. Siccome in realtà come si dice nelle gare di vela, c'è il tattico, lo strategico, insomma, no? E questo era indubbiamente Stefano Cecconi, che spero sia qui, ed era il responsabile della CGL nazionale, che veramente ha fatto tantissimo. Che abbiamo ascoltato in un bell'intervento del film. Forse mi piacerebbe, visto che non l'ho fatto ancora, se lui ci dicesse che cosa ha significato questo per un'istituzione così grande, così, così e così. Allora, se mi promette di non spaccare la sinistra sul Jobs Act... e poi... e poi... e poi... e poi... e poi... devo anche dirvi che questa presenza... Sì, e poi infatti io volevo richiudere con la senatrice perché mi interessava sapere alla fine che cosa sta succedendo e che cosa succederà. Però intanto la parola al compagno Cecconi. Grazie, compagno Virgil. Questa è un'imboscata di Peppe. Vedi? Peppe, cosa ti devo dire? Ce lo siamo detti in tutte le lingue. È stata... è stata una cavalcata... non soltanto fisica, ma è una cavalcata anche... che poi ha avuto qualche riverbero anche in CGL. perché la prima domanda che ci facevano è... ma il sindacato costa a bocchì che c'entra. E quindi... che è incredibile perché non capire che cosa c'entra la condizione umana di migliaia di persone che tra l'altro sono a contatto con centinaia di lavoratori di questi settori. Significa non capire bene qual è il ruolo di un grande sindacato che è quello di essere fondamentalmente un forno appunto che alimenta i diritti delle persone, che crea le condizioni perché i diritti si affermino. E quindi è stata complicata questa parte, Peppe. La parte più complicata che però ha avuto poi una grande ricchezza anche da noi. Siamo stati anche nella sede nazionale. Abbiamo avuto occasione di confrontarci col gruppo dirigente. Insomma, è cresciuta nei territori. Il fatto che... bellissimo, vi ringrazio che abbiate citato poi tutte le persone che abbiamo incontrato e tutta quella rete ricchissima che c'è in giro per l'Italia. Che si occupa dei diritti degli ultimi della terra. in questo caso perché capisce che occupandosi dei diritti degli ultimi della terra ci si occupa dei diritti di tutti. Questo è il punto più importante. Volevo approfittare della presenza della senatrice della quale... Nerina Dirindin. C'ha un nome... Dirindin, proprio. Dirindin. Squillante. Per chiedere a lei lo stato delle cose attuale. Cosa... Insomma, ci aggiorni dalla Commissione Marino in poi? Cos'è successo? Cosa sta succedendo? Beh, un po' di cose sono successe. Alcune sembrano incominciare a dare qualche risultato, far fare qualche passo avanti. Altre segnano davvero la difficoltà che c'è in questo Paese di occuparsi di questi temi. E di occuparsi di questi temi è un po' l'esempio, il simbolo di quando ci si occupa di argomenti che non hanno sponsor, che non sono di interesse per il potere, che non sono di interesse... Certo, che non portano voti, che non portano torna conto elettorale. E che toccano quegli ambiti in cui c'è a Tavico, in molte persone, la paura di qualcuno che potrebbe farti del male, che è diverso e allora conviene lasciarlo. E forse in questi anni c'è in più anche il fatto che ci stiamo troppo abituando a pensare che ci sono delle persone che sono degli scarti e che forse questi qui vanno tenuti lontano perché non sono produttivi. Questo è proprio un emblema di una situazione difficile che c'è e che io, che sono nuova in Senato, ho toccato poi con mano lì quanto è difficile. Quanto è difficile, devo dire, Stefano Cecconi, Beppe dell'Acqua, Giovanna del Giudice, insomma tutti gli amici dai quali ho imparato molto su questi temi, mi hanno aiutato a capire come poter rappresentare il tema e a fatica vincere le resistenze. E confesso che non è stato facile, ma qualche piccolo passo avanti è stato fatto perché c'è una scarsa conoscenza del problema e una tendenza, nonostante lo schiaffo della Commissione Marino, che poi ha colpito molto, però di nuovo a metterlo da parte. Quindi la situazione attuale è qual è? E viene ancora prorogata la chiusura degli opzioni? L'ultimo incontro che è stato fatto, al quale io purtroppo non ho potuto partecipare, ma anche molti qui, Giovanna del Giudice potrà essere, potrà completare. Per fortuna le regioni hanno incominciato a capire che su questo tema devono lavorare, perché erano inerti, ed era inerte il Governo centrale, perché se le regioni non facevano il Governo centrale non gli diceva niente, quindi qui c'è una corresponsabilità di tutti quanti. Per fortuna le regioni hanno incominciato a pensare che forse bisogna contenere davvero il numero di REMS, che devono fare i piani personalizzati. Le REMS sono le residenze mediche assiste. Cioè rischiare di ripresentare sotto altra veste gli stessi problemi e quindi probabilmente, lo dico con molta preoccupazione, probabilmente non ci sarà bisogno di un'altra proroga o le regioni hanno detto non abbiamo bisogno di altre proroghe, non erano tutte presenti, quindi può darsi che qualcuno abbia bisogno di essere aiutato, ma insomma qualche piccolo movimento si è visto, si stanno dando da fare. Certo che bisogna tutti insieme, anche questo film è di aiuto e quando lo presenteremo in Senato sarà utile, poi magari anche in altre, bisogna, come dire, usando un termine che usiamo con i bambini, stargli dietro, perché se no si dimenticano che questo è un tema che va affrontato. D'accordo, benissimo. E noi staremo dietro a voi, in maniera tale che non ve ne dimentichiate. Non so se qualcuno dalla sala, voglia, curiosità, interrogativi, ecco c'è una mano alzata. Io vorrei sapere, non ho capito, perché dice che nella frase che la Camera aveva deciso che riceveranno decise misure alternative dopo la chiusura, quali sono queste misure alternative? Non ho capito assolutamente. Non rispondo io, risponde credo, vabbè, però ci sono i percorsi terapeutici di riabilitazione e cura, quelli dove si fanno dei progetti, dove si dice, prego però, dottore. Grazie. Devo dirle che già dieci anni fa la Corte Costituzionale, con ben due sentenze del 2003 e del 2004, ha praticamente dichiarato l'incostituzionalità dell'invio al manicomio giudiziario. Ovviamente stimolando i tribunali e le regioni e dunque i dipartimenti di salute mentale a cercare prima di tutto e sempre delle possibilità alternative a questo invio, riconoscendo questo invio come assolutamente incostituzionale. Che cosa significa alternativo? significa prima di tutto verificare, valutare, comprendere quali sono i bisogni terapeutici di questa persona. Tenete presente che l'invio al manicomio giudiziario non è un invio in carcere perché venga punito. C'è una strana, come dire, paradosso. La pietà nostra dice questi non possono capire e dunque non li mandiamo in manicomio. Non li mandiamo in galera, per pietà e per scienza perché la scienza conferma questa pietà e dice ma certo sono pietà. E quindi li mandiamo per custodirli e per curarli. La Corte Costituzionale, come pure adesso la legge 81 che è stata approvata il 28 maggio, bene, riconosce che quei luoghi non hanno nessun valore terapeutico come peraltro. La legge 180 aveva detto che i manicomi non hanno valore terapeutico. Allora, prima di tutto considerare che cosa è questa persona, di che bisogni è fatta, di quale reti sociali, quali sono i servizi che se ne occupa e posso dire a chi ha fatto questa domanda che sono molto di più, ma molto molto di più le persone che in questo momento, che se ne pensi, in tutte le regioni italiane riescono a vivere esperienze alternative al manicomio giudiziario piuttosto che essere internati. Questo significa molto semplicemente, quando Paolo Virzi diceva il progetto terapeutico riabilitativo individuale, significa dove abiti e chi se ne occupa, cosa mangi e chi se ne occupa, chi ti cura e chi se ne occupa, cioè i servizi di salute mentale, lavori e c'è una cooperativa sociale che ti può aiutare, c'è un'associazione che lavora in questo senso, cioè mettere insieme, far convergere sulla persona tutte quelle risorse che possono evidentemente far vivere. Vi dico una cosa semplicissima, tenere una persona in una comunità, insomma lontano dal luogo di vita, significa spendere dai 4.000 ai 6.000 7.000 euro al mese, non so se mi capite, con 4.000 o 5.000 o anche 3.000 euro si può spendere per costruire una rete intorno a questa persona, una rete che sicuramente garantisce sicurezza per l'organizzazione sociale, perché non lo dobbiamo dimenticare che stiamo parlando anche di questo, ed è una cosa molto delicata ovviamente, io non banalizzo, e stiamo facendo quello che è un percorso di cura che facciamo per tutti gli altri cittadini affetti dallo stesso disturbo mentale che non hanno commesso un reato, come dire, se io ho commesso un reato e ho il diabete, devo essere curato per il diabete così come è curato un qualsiasi altro cittadino che non ha commesso un reato. Perché per i malati di mente questa cura si fa in altro modo e anzi non si fa? Ecco questa è la domanda. Poi le possibilità ci sono e se non ci si riferisce a quella psichiatria di cui abbiamo parlato ma a visioni nuove che pure psichiatriche sono, psicologiche, antropologiche, sociologiche, economiche, beh significa che le persone possono stare nei loro territori, nelle loro case e quando serve in situazioni di comunità terapeutiche e ancora, questo sembra sempre scandaloso quando lo diciamo, se come diceva anche Grasso, come abbiamo detto nel film, le persone esistono se le riconosciamo responsabili, c'è una responsabilità, anche il carcere e le cure in carcere possono essere una alternativa. Sfido chiunque a dirmi che le cure che si possono prestare in carcere a persone con disturbo mentale, conclamato anche, sono peggiori delle cure che si possono prestare in un manicomio giudiziario. Qualunque esso sia e anche con le pareti pulite e come dicevo io prima, o pitturate, come dicevamo prima per scherzare che tirando lo sciacquone si sente una bella musichetta, no? No, perché questa alternativa non è che sta accampata in aria, già c'è, c'è già, ci sono le comunità di accoglienza, ci sono... e la cosa che ha appena detto il dottore dell'acqua e che aveva a me colpito era come in realtà le risorse... I soldi ci sono ma si spendono male, cioè le risorse ci sono e sono spase in modo improprio. Ecco, questo che non abbiamo detto, ti do subito la cosa, per questa storia qui, quando è passata la legge, sono stati stanziati 100, circa 80 milioni in conto capitale, cioè dicendo alle regioni, voi con questi 180 milioni dovete costruire i piccoli manicomi e sono stati, sto dicendo, 55 milioni in spesa corrente che di anno in anno dovrebbero essere ricaricati per progetti terapeutici, per acquisto di personale e così via. Dunque tutto questo ci sarebbe già, su questo c'è un ritardo ma credo che poi Nerina tornando in Senato vedrà di smuovere queste cose e questi soldi non sono ancora arrivati tutti e bene alle regioni, però questi soldi ci sono ma le stesse regioni e gli stessi dipartimenti di salute mentale hanno risorse per poter affrontare il problema dei progetti terapeutici e rehabilitativi o comunque di un sostegno alternativo e diverso alle persone. Con un percorso più civile si potrebbe spendere e meglio. Ecco questo è il discorso. Vi ringrazio molto per l'esauriente spiegazione, grazie dottore. Peraltro ci sono realtà di accoglienza per gli strumentali magari che si sono anche presi in carico pazienti con dei reati quindi dove vengono fatti lavorare, imparano un mestiere, percepiscono addirittura un reddito, creano ricchezza, che è una delle basi per i diritti della persona. Cosa facciamo? Ringraziamo tantissimo Erika, Giuseppe e Peppe per questa bellissima emozione che ha regalato al Torino Film Festival. Erika vuole aggiungere una cosa? No, volevo solo ringraziare il Torino Film Festival e Paolo Virzi per aver scelto questo film perché insomma non è facile sempre portare alla luce certi temi e quindi siamo onorati di essere qui. Grazie. A noi ringraziamo voi. Grazie a voi. Grazie Paolo. Grazie a voi.